Gli uomini della polizia e della guardia di finanza di Ravenna hanno controllato un night club che formalmente risultava associazione no profit con finalità culturali, ma in realtà era un locale notturno da divertimento e trasgressione. Quando i finanzieri e i poliziotti sono entrati nel locale hanno identificato e denunciato alcuni avventori per il reato di atti osceni in luogo pubblico e sono state contestate al gestore del locale, anche altre violazioni alle norme di pubblica sicurezza e di incolumità, in particolare per quanto riguarda gli orari di apertura e i limiti alla somministrazione di alimenti e bevande. I documenti acquisiti hanno dimostrato che l'imprenditore, al quale è stata ricondotta l'attività commerciale, aveva utilizzato impropriamente la propria associazione culturale, beneficiando in modo fraudolento del regime fiscale agevolato per gli enti senza scopo di lucro. I finti associati hanno riferito di non essere a conoscenza delle finalità dell'ente e sono risultati a essere semplici clienti non coinvolti nella gestione dell'associazione, ma utilizzavano semplicemente la tessera associativa per accedere al locale per trascorrere una serata di divertimento anche nelle aree privé. Il locale, per garantirsi un maggior numero di ingressi femminili, applicava tariffe vantaggiose alle donne single e alle coppie, mentre l'ingresso maschile costava sino a 120 euro per entrata. Il controllo fiscale ha permesso di recuperare oltre 300.000 euro di imponibile e circa 80.000 euro di IVA e di far emergere l'ennesimo evasore totale sconosciuto al fisco.